L'avvio di settimana, come preannunciato ha visto condizioni di tempo migliore, ma disturbate da rovesci e temporali in sviluppo durante le ore pomeridiane, in trasferimento dalle zone interne fino a quelle costiere. Queste condizioni ci seguiranno almeno fino alla metà della settimana, successivamente la tendenza meteorologica che si sta profilando, ci indica l'arrivo di un nuovo peggioramento che interesserà dapprima il nord Italia, tra mercoledì e giovedì, per poi estendersi alle regioni del centro, compreso la Sardegna. Vediamo il tempo nel dettaglio per i prossimi giorni. Il meteo in Italia per martedì 23 maggio vedrà tempo ancora generalmente buono, con cieli sereni per lo più poco nuvolosi. Nel corso del giorno però si andranno a sviluppare rovesci isolati anche a carattere di temporale, specie sui settori alpini, appenninici e zone limitrofe. Temperature in lieve aumento con valori leggermente sopra la media. Il meteo in Italia per mercoledì 24 maggio vedrà ancora un avvio sereno per lo più poco nuvoloso. Nel corso del giorno si andranno a sviluppare isolati rovesci anche a carattere di temporale che interesseranno le zone interne centrali e lungo i rilievi. Verso il termine della giornata, precisamente tra sera barra notte, ci attendiamo l'arrivo del peggioramento, con fenomeni che si svilupperanno al nord Italia e potranno assumere carattere di temporale. Tendenza meteo a seguire, i fenomeni tra la notte di mercoledì e giovedì andranno ad estendersi alla pianura padana. Interessando poi nella giornata di giovedì i settori del centro e della Sardegna. A seguire il tempo non prevede un miglioramento, ma risulterà più soleggiato con nuovi episodi instabili specie nelle zone interne. Ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.